Tg12 ben trovati. Festeggiamenti per l'elezione alla Camera di Ugo Capellacci interrotti bruscamente da un'indagine che coinvolge l'ex governatore. Secondo le ipotesi degli inquirenti avrebbe ricevuto una tangente da 80.000 euro in cambio di pressioni politiche per l'ottenimento di un finanziamento. Capellacci respinge ogni accusa dal suo profilo Facebook. Ce ne parla Adriano Porquedo. L'ex governatore Ugo Capellacci è stato iscritto nel registro degli indagati per presunta corruzione. I fatti risalirebbero al 2013 e riguardano le indagini su un finanziamento pubblico da 750.000 euro destinati alla FM fabbricazioni metalliche concesso secondo le ipotesi degli inquirenti attraverso pressioni politiche. Capellacci sarebbe intervenuto per la sua influenza politica sulla regione attraverso una tangente da 80.000 euro. L'inchiesta della procura di Cagliari ruota sulle presunte pressioni del coordinatore regionale di Forza Italia appena eletto alla Camera ma vengono ipotizzati anche il peculato e la truffa nata da un fascicolo per bancarotta aperto dai sostituti procuratori Emanuele Secci e Diana Lecca. Tra i nuovi indagati oltre a Capellacci spica anche il consigliere regionale sempre di Forza Italia Alessandra Zedda. L'ex presidente della regione respinge ogni accusa e ogni ipotesi di rapporto con le persone coinvolte dall'indagine e affida al suo profilo Facebook la sua prima difesa. Sono tornati puntuali come un orologio scrive sul giornale di oggi legono di una vicenda giudiziaria che forse dovrebbe essere meglio definita come un'infamia colossale perché il termine buffala non basta descriverla. Nomi, numeri, vicende che non conosco ne ho mai conosciuto. Mi si dice che avrei fatto pressione su assessori e funzionari totalmente falso. Mi si dice che avrei ottenuto un cambio intorno a conto economico con complesse articolazioni societarie totalmente falso. Tutto totalmente privo di fondamento in radice. La tangente di cui avrei beneficiato non esiste e non è mai esistita. Firmata la convenzione ATS e Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Sassari con la quale le visite mediche previste dalla legge si realizzeranno a Sassari e il personale non sarà più costretto a un lungo tragitto verso Cagliari, razionalizzando così tutte le risorse. Vediamo i dettagli nel servizio. Stipulata la convenzione tra ATS e Sardegna ASL Sassari e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Sassari con la quale si raggiunge un nuovo importante risultato. I dipendenti dei Vigili del Fuoco non saranno più costretti ad andare a Cagliari per sottoporsi ai controlli medici previsti dalla legge. La TSSL Sassari si occuperà di eseguire gli accertamenti tecnico-sanitari imposti dalle norme di sicurezza dei lavoratori, al fine di verificare periodicamente l'idoneità e le condizioni di salute di tutto il personale dei Vigili del Fuoco in servizio nelle province di Sassari e Olbia e Tempio. Si tratta di un grande segnale interistituzionale, afferma il Comandante del Comando Provinciale di Sassari, Mario Falbo. Grazie a questa intesa, il nostro personale non sarà più costretto a compiere un lungo tragitto con una forte razionalizzazione delle risorse e con un vantaggio per il cittadino utente. Per agevolare il corretto svolgimento delle indagini sanitarie, la TSS mette a disposizione del Corpo dei Vigili diverse figure professionali, medico del lavoro, cardiologo e specialista in medicina dello sport, otorino laringoiatra, psicologo, oculista, infermieri per prelevi strumentali ed archiviazione dei dati, da effettuarsi in un unico punto accettazione. Il distretto sociosanitario di Sassari è lieto di destinare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il personale e i mezzi necessari per gli accertamenti medici prescritti dalla normativa, afferma il direttore del distretto Nicolò Liccheri. Si va dagli screening in piazza sulle malattie del Rene al teatro a Palazzo Ducale, fino ai dibattiti sulla violenza nella biblioteca comunale, per celebrare in città la giornata internazionale della donna. Sandra Sanna. Calendario ricco di eventi in città per la celebrazione della giornata mondiale della donna. Si parte dal mattino in piazza d'Italia alle 9 con la manifestazione organizzata all'unità operativa complessa di nefrologia, i reni e la salute delle donne, che in collaborazione con i Vigili del Fuoco allestirà una tenda all'interno della quale il personale medico-infermieristico effettuerà degli screening gratuiti fino alle 18. Alla stessa ora andrà in scena a Palazzo Ducale, dopo i lavori del Consiglio, lo spettacolo Le ragazze sono partite, tratte dal romanzo di Giacomo Mamelli, interpretato da Daniela Cossiga e Antonella Masela, diretto da Sante Maurizzi, una pièce promossa dalla Commissione Pari Opportunità, che racconta il viaggio verso Roma della Sardegna di tre domestiche per prestare servizio presso alcune famiglie benestanti. In contemporanea, sempre le 18, presso la biblioteca universitaria, l'associazione culturale Madonne presenta 8 maggio e oltre, un dibattito sulla difficile tutela delle donne vittime di violenza. Tra i relatori, l'avvocato Martina Pina e la giornalista Vanna Lisa Manca. Chiude la serata il concerto del Women Ensemble. Anche il Polo Museale della Sardegna ha previsto un evento per celebrare la giornata internazionale delle donne, dalle 17.30 alle 19, nella sala conferenze del Museo Nazionale Archeologico e Etnografico Giovanni Antonio Sanna. È stato organizzato infatti un incontro con la tesitrice Adriana Pintus dal titolo Frutto del telaio. Il ruolo della tesitrice fra tradizione e avanguardia. Per l'occasione, la tesitrice consegnerà un arazzo realizzato esclusivamente per il museo. Nell'ambito della cooperazione internazionale, l'Università di Sassari, col Dipartimento di Scienze Biomediche, sbarcherà in Vietnam con un Master sulla Biotecnologia intitolata a Carlo Urbani, medico-infettivologo. Ce ne parlano Maria Pilo e Maria Scano. Il Master internazionale in Medical Biotechnology ampia le proprie prospettive e sogna ancora più in grande. Il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Sassari e la UE University of Medicine and Pharmacy in Vietnam accolgono nella partnership la Queensland University of Technology di Brisbane, Australia, e si preparano a costruire un Joint Master Degree nell'ambito dell'Erasmus Mundus, un passaggio importante per portare contare su uno staff internazionale di docenti e ricercatori sempre più composito e interdisciplinare. Il Master ha consentito la realizzazione di laboratori per la sorveglianza epidemiologica delle infezioni respiratorie e di un reparto di terapia intensiva. Inoltre prevede nei prossimi mesi l'avvio dei lavori per la costruzione, sempre a UE, dell'Institute for Biomedical Research e del nuovo ospedale universitario. Una delegazione vietnamita sarà ospite presso le strutture sanitarie di centri di ricerca e formazione dell'Ateneo. Il progetto che vede l'Università di Sassari come capofile è intitolato a Carlo Urbani, medico-infettivologo italiano. Questa sera il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, sarà ospite nello speciale TG12 condotto da Adriano Porquedo per un'intervista esclusiva, la prima dopo le elezioni politiche di domenica 4 marzo. Il primo cittadino è stato bersaglio in questi giorni degli avversari politici. Dopo la disfatta del risultato del Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle ha chiesto ufficialmente le sue dimissioni. Non perdete quindi l'appuntamento di questa sera dopo il TG12 della sera. Parliamo adesso di spettacolo. Al via questa sera la rassegna dal titolo La Magnifica Ossessione, classici dei cinema visti al cinema, al moderno a Sassari per il rilancio della cultura cinematografica in città e nel territorio. Vediamo. La Magnifica Ossessione, classici del cinema visti al cinema, è il titolo della rassegna che prende il via oggi, mercoledì 7 marzo, al moderno di Sassari. Curata da Lucia Cardone, titolare della Cattedra di Storia del Cinema all'Università di Sassari, è realizzata in collaborazione con la moderno SRL e il festival Pensieri e Parole. La rassegna vuole integrare l'insegnamento di storia del cinema del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali con una proposta culturale aperta alla città, in particolare i giovani ma tutti coloro che vogliono cogliere l'occasione di vedere i classici nel luogo per i quali sono stati realizzati, la sala cinematografica. E' proprio la centralità della sala, luogo deputato per la visione condivisa del film, alla base del progetto culturale, ha dichiarato Alessandro Murtas. Questi primi mesi di programmazione ci stanno confortando circa la scelta di mantenere il cinema al centro storico, punto di riferimento sociale ma anche urbanistico del territorio. La rassegna avrà inizio stasera alle 19.55 con Hugo Cabret di Martin Scorsese. Lo showman Benito Urgu sarà protagonista di uno spettacolo proposto dalla Berlin il prossimo sabato, un monologo che vedrà il protagonista, l'istrionico, cantante, attore, cabarettisa che ripercorrerà la sua straordinaria carriera. Il servizio è di Icoribichesu. Benito Urgu is back. In programma sabato 10 marzo sotto l'egida della Berlin lo show dell'istrione Sardo, presente sulla scena da oltre 40 anni, con incisioni discografiche datate fin dal 1977. Passaggi cinematografici, ultima apparizione in bianco e babodoglio del 2016. Televisivi, da Piacere Re 1 con Toto Coutugno, fino a Marchette con Piero Chiambretti e Colorado con Nino Frassica. Musical teatrali come Bogas de Domo e tanto altro ancora. Benito Urgu riproporà al pubblico un monologo autobiografico ricco di gex esilaranti. In un viaggio che sarà divertentissimo. La Birlanda comunica che la sala aprirà alle 21 e l'inizio dello spettacolo è fissato per le ore 22. L'indirizzo è quello solito, zona industriale pre Danieda, strada 22. D'accordo! Ci fermiamo a qualche istante per una breve pausa pubblicitaria. Tra poco... D'accordo! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.